buongiorno a tutti mi sono appena svegliato ho un bellissimo raffreddore infatti dovrò andare in farmacia e fare così perché non so parlare francese ieri sono arrivato in questo posto molto molto bello a marina di pevani vicino ad agiaccio consigliato dal buon tose grazie mille il problema è che io non ho mai conosco molto bene il mio mezzo so come si comporta ma sono sempre molto ottimista non scendo mai a guardare e oltretutto da sopra scendere è sempre possibile quasi sempre risalire un po meno quindi ieri sera alla fine fatto sta che mi sono piantato per fortuna 50 metri da me nel punto che avrei dovuto raggiungere per la notte per rilassarmi c'era un defender con cellula è stato molto gentile cristian insieme alla sua ragazza due tedeschi mi hanno aiutato e mi hanno dato una stroppata fuori alla fine è bastato un attimo ma se non ci fossero stati loro sarei stato penso tutta la notte a mettere pietre a perché poi da una parte c'erano i rovi era veramente un delirio e la cosa positiva è che mi aiuteranno anche oggi ad uscire perché è un po bagnato e senza loro aiuto non credo ce la farei ce la farò sono stati oltretutto veramente molto simpatici abbiamo chiacchierato tutta la sera con il mio inglese un po marcio però abbiamo dialogato senza problemi e adesso mi trovo qui di fronte a questo panorama spettacolare io ho visto qualcosa che ha sempre cambiato il giro scopo mi amico per tutto quello che ho fatto per te scopo mi amico per tutto quello che ho fatto per te scopo mi amico per te There's too much here Let these towers turn to rivers Let these instincts steer Let the dust settle Let the stormy weather ride out disappear When the sunlight shines Let it all come clear I Will mend my way I Will mend my way Will mend my way See the red dust swirling The red dust swirling The red dust swirling On my knees Now there's that bad piece And this couple of tedeschi Did it voluntarily To give me a hand Because without them Probably I'd really get tired The Ducato As soon as it goes in twist That's when a wheel rises It goes in crisis And here's a big hole So 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 non so bene come con la sr attivato sono riuscito con un po di gas sono riuscito ad affrontare il pezzo adesso c'è un altro pezzo un po bruttino infatti gli ho chiesto di andare piano e nel caso di darmi una stroppa tina anzi adesso lo lascio andare perché lui ovviamente può effettuare i passaggi con una certa velocità io ho bisogno di più velocità bisogna di più spinta se non salgo beh alla fine sono riuscito a uscire da solo c'erano due punti un pochino brutti ma il ducatone si è comportato bene sarà anche che oggi fa abbastanza caldo c'è il sole quindi si è asciugato ieri era un po umido poi vabbè ieri ho fatto la cazzata l'ho fatta io quindi non mi posso veramente lamentare comunque nel male è andata veramente di lusso perché non solo ho trovato un fuoristrada che potesse tirarmi fuori ma ho trovato un fuoristrada fatto di persone gentili e disponibili e questa non è una cosa scontata già era un lusso trovare un qualsiasi mezzo ma trovare un defender così attrezzato e con una coppia giovane e disponibile è stato veramente un lusso da non sottovalutare quindi un grazie a christian e alla sua compagna che sono stati veramente super gentili e boh mi sento in debito con loro gli ho fatto un po di foto spero che possa sdebitarmi in questo modo ma so che l'hanno fatto con piacere i fuoristradisti hanno questa mentalità e non sono egoisti sono sempre pronti ad aiutare chi ha bisogno di una mano di una stroppata adesso sento nicolas nicolas perché sono sul monte gozzi a volare e comunque ci andranno a breve lui ed altri power gliders quindi spero di andare lì e fare un po di belle foto mentre fanno un po di action sto salendo al decollo del monte gozzi e insieme a sherry stiamo praticamente morendo perché come al solito ho tirato come una bestia pur non essendo allenato minimamente qui ci sono almeno 6 o 7 vele in volo è molto figo ci tornerò sicuramente senza sherry per fare un po di voli secondo me merita davvero però oggi ci limitiamo a guardare ho finalmente trovato il nicolas nicolas non so come sia la pronuncia ho paura di sbagliarla ogni volta e insieme ad un altro che ho visto decollare prima poi ha fatto quota e boh spettacolo vedere dei piloti volare con tutta questa confidenza con la vela è qualcosa di mostruoso a parte il fatto che uno di loro facesse l'helicopter proprio il controllo che hanno nel fare top landing è mostruoso già solo arrivare a fare un top landing su un decollo così io sarei contentissimo ma sono fermo da due mesi quindi non posso pensare di migliorare in volo stando per terra quindi quando tornerò da qua sicuramente tornerò a volare però mi mi piacerebbe anche fare venire qua in in inverno magari primavera sia per sciare che per volare un po sarebbe fighissimo boh chi lo sa sto crepando sto crepando prima o poi mi faccio un ginocchio così comunque piccolo aggiornamento per quanto riguarda le scarpe io non voglio non sono un tester e non voglio passare per quello che se ne intende di scarpe da montagna perché non lo sono quindi prendete con le pinze il mio parere però io prima ero abituato alle salomon speed cross 4 che erano più basse quindi proteggevano un po meno la caviglia queste sono un po più alte le salomon erano veramente perfette non è perché adesso garmont mi ha dato queste scarpe devo parlare male delle salomon però il problema principale è che io pur non avendo le usate molto mi sono durate pochissimo cioè dopo un anno erano praticamente da buttare perché non c'era più il tassello queste qua hanno un grip ottimo e ovviamente adesso non posso ancora parlare della tenuta nel tempo della di quanto durano perché ci vogliono mesi prima di vedere il consumo del tassello o perlomeno spero se poi tra una settimana il tassello sarà già consumato ve lo dirò lo sapete che io non ho molti peli sulla lingua e se le cose non mi piacciono non vanno bene le dico per correttezza verso chi mi segue e chi mi dà fiducia quindi il test continua e adesso corro un po così cerco di morire io non so come fanno quelli che fanno trail running a correre nel nulla dieci volte più veloci di me certo sono atleti e io sono un pirla però mamma mia ecco e soprattutto mi chiedo quanto si possano si debbano allenare per non fermarsi dopo 20 secondi come faccio io ma io taglierò tutti i pezzi e sembrerò allenatissimo non è vero dopo essere stato vicino al monte gozzi aver fatto un po di foto ai parapendisti in volo sto andando verso le isole sanguinarie che sono delle isole con un faro in mezzo davanti ad agiaccio e sono molto belle al tramonto sperando che ci sia il tramonto di ieri sera perché ieri sera era qualcosa di atomico però purtroppo arriva in ritardo quindi sono le 17 25 dovrebbe mancare circa 40 minuti all'arrivo e dovrei essere super in tempo sperando appunto di trovare un tramonto come quello di ieri sera però sicuramente non andrà così però noi ci proviamo le batterie del drone sono cariche e bom si va ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. Spero che almeno ci sia un bellissimo tramonto, altrimenti... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.